Questa è la lettera dal Tabernacolo Brannam e dal Fatale Joseph Brannam in Joseph Fersonville, Indiana. Qui è Fatale Joseph. Caro Padre, cosa posso scrivere oggi in modo che tu possa usarmi in qualche piccolo modo per incoraggiare la tua preziosa sposa? Dio è venuto nel nostro giorno e ha vissuto in carne umana, in un uomo chiamato William Marion Brannam, in modo da poter rivelare e adempiere la sua parola. Questa è la rivelazione di Gesù Cristo nel nostro giorno. Ascoltare quella voce e credere a ogni parola è l'unica via provveduta da Dio per oggi. Egli ha inviato al mondo molti uomini unti col suo Spirito Santo, ma ha mandato e parlato solamente attraverso un unico uomo per rivelare la sua parola e guidare la sua sposa. Egli non cambia mai il suo programma o il suo modo di fare le cose. Egli agisce ogni volta come agito la prima volta. Egli stesso guida il suo popolo attraverso la colonna di fuoco. Voi siete la sposa eletta, scelta da Dio, e non c'è niente che il diavolo possa fare o dire per potervi portare via questo. Niente. Egli vi ha predestinati prima della fondazione del mondo. Vi conosceva allora ed eravate con Lui allora. Conosceva il vostro nome, conosceva tutto di voi. Conosceva i vostri alti e bassi. Conosceva i vostri fallimenti, i vostri errori e vi ha amati comunque perché eravate parte di Lui. La vostra anima può nutrirsi solo della sua parola. Niente può soddisfarvi tranne la sua parola. Voi amate leggere la sua parola e meditare su di Lui, pregando dal profondo del cuore. Ma quando sentite la sua voce, che vi parla direttamente, vi solleva oltre la cortina del tempo perché sapete di essere seduti con Lui nei luoghi celesti, mentre vi parla faccia a faccia, rivelandovi la sua parola, ricordandovi che voi siete la mia sposa. Il diavolo può colpirvi e colpirvi e colpirvi. Voi potete cadere così in basso a volte e sentire di essere un fallimento totale. Sentire di averlo deluso come nessun altro. Siete il peggio del peggio. Ma da qualche parte, nel profondo della vostra anima, sentite quella voce sommessa e sottile che vi dice, niente può separarvi dalla mia parola. Voi siete la mia parola. Io stesso ho messo il vostro nome sul mio libro della vita dell'agnello. Cosa posso dire per incoraggiarvi oggi? Semplicemente premete play. Ogni giorno e ascoltate la voce di Dio che vi parla e vi dice, così dice il Signore. Siete invitati a unirvi alla sposa questa domenica alle 18, ora di Jeffersonville. Quando ci riuniremo per ascoltare quella voce sommessa e sottile, 63-11-10m, anime che sono ora in prigione. Fratello Joseph Brano, scrittura da leggere prima del servizio, Genesi capitolo 15, versetto 16. San Matteo, capitolo 23, versetto 27 a 34. San Giovanni, capitolo 4, versetto 23 e 24. San Giovanni, capitolo 6, versetto 49. San Giovanni, capitolo 14, versetto 12. Primio Pietro, capitolo 3, dal versetto 18 a 22. Seconda Pietro, capitolo 2, versetto 4 e 5. Giuda, capitolo 1, versetto 5 e 6. Fino alla prossima volta, Dio vi benedica e Shalom. Fino alla prossima volta, Dio vi benedica e Shalom. Fino alla prossima volta, Dio vi benedica e Shalom. Fino alla prossima volta, Dio vi benedica e Shalom.